Dopo lo scandalo la Volkswagen prova a voltare pagina con il nuovo amministratore delegato Mattias Müller. È un disastro morale e politico, ammette la casa tedesca, e il nuovo AD promette il massimo impegno per riconquistare la fiducia crollata per colpa, dice, di un piccolo gruppo di persone. Intanto il ministro dei trasporti rende noti i numeri delle auto truccate circolanti in Germania, 2 milioni e 800 mila, coinvolti anche i motori di piccola cilindrata. Papa Francesco scuote le Nazioni Unite chiedendo che casa, lavoro, terra e libertà siano garantiti a tutti, in un discorso storico interrotto 27 volte dagli applausi. Poi da Grand Zero un forte appello per la pace, per il Papa eccezionale bagno di folla a Central Park e accoglienza da star al Madison Square Garden. Oggi e domenica invece Bergoglio sarà a Filadelfia, ultima tappa del viaggio negli Stati Uniti. Stati Uniti appunto e Cina uniti per ridurre le emissioni di carbonio. È il risultato della prima visita di Stato di Xi Jinping alla Casa Bianca. Obama incassa dunque la promessa che il presidente cinese gli aveva fatto un anno fa a Pechino. I due leader hanno raggiunto anche un'intesa sulla necessità di difendere la proprietà intellettuale dallo spionaggio online. Un altro colpo di scena scuote il calcio mondiale. Il presidente della FIFA, Seb Blatter, è indagato dalla magistratura elvetica. Nell'ambito dell'inchiesta sui fondi della Feder Calcio Mondiale, Blatter è accusato di gestione fraudolente e appropriazione indebita. nei guai. Finisce anche Michel Platini. Avrebbe intascato illecitamente da Blatter due milioni di franchi svizzeri. In francese replica, ho chiarito tutto alle autorità, sono stato pagato per un lavoro svolto. Buongiorno, 7 e 30 precise. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del Tg La Sette. Allora, partiamo ancora una volta con il caso Volkswagen. La Volkswagen che ha da ieri un nuovo amministratore delegato, Mattias Müller, arriva da Porsche. A lui il compito di cercare di frenare il disastro di immagine e anche economico che rischia di travolgere la casa tedesca. Lui ha reagito dicendo che naturalmente farà fuori il gruppo di persone piccolo che avrebbe ordito questo complotto, chiamiamolo così, ai danni della casa tedesca, ma lo scandalo si allarga. Sono molte più del previsto le auto coinvolte. Un disastro politico e morale, un danno enorme causato da un piccolo gruppo di manager, dichiara in conferenza stampa il consiglio di supervisione della Volkswagen. Poi la nomina del nuovo amministratore viene ufficializzata. Mattias Müller, 62 anni, è il capo esecutivo del marchio Porsche dal 2010 e arriva in vetta la Volkswagen nel piano del ciclone che ha investito il simbolo dell'industria tedesca. Prende il posto di Martin Winterkorn, l'ex numero uno che ha lasciato accollandosi tutte le responsabilità. Riconquistare la fiducia persa è la mia priorità. È il segnale che Müller lancia tutti i mercati internazionali dove la casa di Wolfsburg non vuole certo perdere più di quanto ha già fatto. Sono truccate 2 milioni e 800 mila vetture circolanti solo in Germania, un milione circa in Francia, nel resto d'Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Invece sull'impatto del dieselgate che ha travolto la Volkswagen si stanno ancora facendo i conti. Quando il ministro dei trasporti Dombrink in Parlamento ha confermato i numeri tedeschi delle automobili con i software truccati per migliorare i dati sulle emissioni inquinanti in borsa a Francoforte, il titolo è scivolato chiudendo con un meno 4,3% delle azioni. La Svizzera ieri ha sospeso le vendite delle vetture sospette. Oltreoceano, 27 stati americani si preparano a fare causa. Ma la lista ufficiale dei vari modelli coinvolti non è ancora completa. Al momento di sicuro i veicoli interessati sono quelli che montano il motore EA189 da 1600 e 2000 di cilindrata. Ma la commissione interna del ministero tedesco sta valutando anche la versione da 1.2 diesel e non solo dell'azienda di Wolfsburg, ma anche quelle degli altri marchi del gruppo, Skoda e Seat, che usano gli stessi propulsori. Allora, il Papa è a Filadelfia. Nuova tappa e ultima del suo viaggio negli Stati Uniti. Ieri è stata una giornata trionfale per gli applausi che il Papa ha raccolto sia di fronte all'Assemblea delle Nazioni Unite sia nel suo giro in città che ha avuto molte tappe e tutte molto affollate. Vediamo. 80.000 persone per il più imponente bagno di folla della visita negli Stati Uniti di Papa Francesco. È una delle istantanee simbolo di questo viaggio oltreoceano, il pontefice in Jeep a Central Park, che saluta le due immense ali di folla. Quella Jeep lo sta portando al Madison Square Garden di New York, dove gli oltre 20.000 presenti per la celebrazione della messa, dopo aver fatto anche due chilometri di coda per entrare, gli tributano una lunga standing ovation. La tappa precedente invece era stata a Harlem per una visita ad una scuola cattolica dove il 70% degli studenti è ispanico. Lì Bergoglio ha incontrato diversi immigrati ricevendo regali ed ascoltando il racconto delle loro storie. Ai bambini è spiegato Martin Luther King. È bello avere dei sogni e poter lottare per essi, ha detto, aggiungendo oggi vogliamo continuare a sognare e festeggiamo tutte le opportunità che ci permettono di non perdere la speranza in un mondo migliore con maggiori possibilità. Un mondo migliore con maggiori possibilità dove tutti abbiano terra, casa e lavoro, quello che qualche ora prima il pontefice aveva chiesto ai governanti di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In un discorso storico interrotto 27 volte dagli applausi. Al centro la difesa dell'ambiente e dei poveri di quelle donne, quegli uomini esclusi da una brama egoistica e illimitata di potere e di benessere materiale, vittime della cultura dello scarto. Temi che costituiscono il cuore pulsante della sua enciclica laudato sì e che sono al centro della sessione plenaria dell'Assemblea Generale dell'ONU chiamata ad approvare l'Agenda 2030 proprio sulla lotta alla povertà e sullo sviluppo sostenibile. Ma il pontefice ha chiesto anche una riforma dell'organizzazione affinché lavori ancora di più per portare la pace nel mondo. Dal palazzo di Vetro Bergoglio si è spostato a Ground Zero dove ha prima incontrato alcuni dei familiari di coloro che persero la vita nell'attacco alle torri gemelle e dopo in raccoglimento con altri dodici leader religiosi ha pregato per le vittime di quello che ha definito un atto insensato di distruzione. Poi appunto la scuola di Harlem e il Madison Square Garden, le ultime due tappe new yorkesi del Papa che oggi partirà per Filadelfia per gli ultimi due giorni del suo viaggio apostolico. E sta arrivando negli Stati Uniti anche il Presidente del Consiglio Renzi per partecipare all'Assemblea delle Nazioni Unite. Renzi che ha fatto il punto sugli ultimi fatti di politica interna a partire dalle riforme che a questo punto sembrano indirittura d'arrivo passando anche attraverso gli appuntamenti dell'economia. Le riforme vanno avanti, non ci saranno problemi e i tempi saranno rispettati. Intervistato dal TG5 il Presidente del Consiglio guarda avanti con la tradizionale fiducia, gonfiatasi quasi di colpo la nuvola di polemiche sulla riforma del Senato con la minoranza del PD riconciliatasi con la frase magica sui futuri senatori che saranno eletti in conformità con le scelte espresse dagli elettori, non senza incognite però riguardanti la mancanza di uniformità nella legislazione regionale accettata con qualche mugugno la data del 13 ottobre per il voto finale, scelta infine dal Presidente del Senato Grasso, ciò che renderà difficile arrivare al referendum prima dell'entrata in vigore dell'Italicum resta sì la montagna di emendamenti presentati da Calderoli, ma è una montagna destinata a smottare sotto i colpi di qualche concessione in più a regioni e denti locali. Tanto più che il centro-destra tutto appare in questo momento meno che compatto nella strategia da portare avanti, con Salvini che continua a sfoggiare disinteresse per il Senato, con Forza Italia che perde pezzi praticamente ogni giorno che passa e non fa nulla per nascondere che l'unica vera battaglia interessante è quella sull'Italicum, sul premio alla coalizione e non alla lista così come per ora stabilito cioè dal Senato, a riaprire dunque un fascicolo che Renzi però ha detto più volte di considerare chiuso. Con una Meloni che ieri alla festa di Fratelli d'Italia a Treiu ha detto no a un ticket Berlusconi-Salvini e con Maroni che da parte sua non ha escluso invece un ticket Salvini-Meloni, mentre gli ex AN, Gaspardi e la Russa predicano la ricetta di sempre unità. Le attenzioni ora sono già puntate però alla legge di stabilità da cui si dovrebbe finalmente capire qualcosa di più su Italia, la famosa revisione della spesa sulle coperture necessarie per gli alleggerimenti fiscali sulla casa promessi da Renzi. Per ora è nota solo la volontà di tagliare o come si dice anche razionalizzare le spese sanitarie tra le proteste dei medici che potrebbero sfociare in uno sciopero. Ma Renzi è ottimista anche su questo fronte. Se i medici ci vogliono suggerire modi diversi per tagliare gli sprechi, ha detto saremo ben felici di ascoltarli senza che si arrivi allo sciopero. Ancora dagli Stati Uniti dove ieri si è svolto l'incontro fra il presidente Obama e quello cinese Xi Jinping, è stato raggiunto un accordo. Pechino, ed è un evento storico, ha annunciato che intende diminuire le emissioni nocive da partire dal 2017. Se c'è intesa su questo, quindi sui temi ambientali, un po' meno ce n'è sulle questioni strategiche e su quelle militari. Stati Uniti e Cina si danno la mano sul fronte dell'ambiente. L'impegno condiviso è quello di ridurre quanto più possibile le emissioni di anidride carbonica, così ha promesso il presidente cinese Xi Jinping nella sua prima visita di Stato alla Casa Bianca. In vista anche dell'Assemblea Generale ONU a Parigi, prevista per dicembre sui cambiamenti climatici. Obama incassa dunque la promessa che il presidente cinese gli aveva fatto un anno fa a Pechino, promessa importante da parte di un paese che negli ultimi anni ha superato e di molto gli Stati Uniti per emissioni carboniche, visto che tuttora il 64% della sua energia elettrica viene prodotto in centrali a carbone. Raggiungeremo il picco nel 2030, avverte Xi Jinping, poi le emissioni inizieranno a calare e raddoppieremo le energie rinnovabili a sicura, nucleare incluso, con la promessa di 3 miliardi di euro ai paesi poveri per le fonti rinnovabili. Impegno che, ha voluto sottolineare il presidente cinese, non deve essere più visto come una concessione all'Occidente, ma una priorità nazionale per ridurre gli enormi danni dell'inquinamento. E poi l'economia, cresciamo meno, ha detto il presidente cinese, ma è una nuova normalità. Obama e Xi Jinping hanno anche cercato di raggiungere un'intesa per evitare cyberguerre, dopo che l'amministrazione americana è stata più volte bersaglio di attacchi da parte di hacker riconducibili alla Cina e un accordo sulle isole contese nel mar della Cina meridionale orientale, tema quest'ultimo su cui le due superpotenze restano ancora su posizioni lontane. Dopo mesi di trattative, ieri sera, Russia e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle forniture di gas per l'inverno. Ad annunciarlo è stato il mediatore del negoziato, il vicepresidente della Commissione europea, Sefcovich. Negoziato difficile, segnato dalla disputa sui prezzi e le condizioni che negli ultimi tempi hanno creato nuove tensioni tra Mosca e Kiev. Nel 2009 si giunse all'interruzione delle forniture con ripercussioni anche in Europa lo scorso anno, poi solo un accordo all'ultimo momento ha evitato di far rimanere l'Ucraina al gelo. La firma di ieri sera è arrivata dopo sei mesi di colloqui portati avanti appunto con la mediazione dell'Unione europea. E siamo alla cronaca. E caccia all'uomo che ha sparato due giorni fa a fuori grotta un agente di polizia in borghese che resta in gravi condizioni. Wanted ricercato con una fotografia del malvivente diffusa su un profilo Facebook frequentato dai colleghi di Nicola Barbato, l'agente di polizia in borghese rimasto ferito gravemente due sere fa nel quartiere fuori grotta di Napoli, mentre sorvegliava un commerciante in quel momento vittima di un tentativo di estorsione. Le sue condizioni restano molto gravi e la caccia a chi ha sparato. Un uomo pregiudicato per droga è già identificato continua anche sui social network e si diffonde in rete con migliaia di visualizzazioni insieme ai messaggi di solidarietà e di affetto per la gente che in ospedale ha ricevuto la visita del capo della polizia Pansa. Ulteriore segnale del clima di tensione che si respira in questi giorni nel capoluogo campano, con una escalation di violenza per le strade che a questi livelli non si vedeva da anni e il timore per una nuova sanguinosa guerra di Camorra. Uno dei presunti complici del ricercato è stato già fermato, secondo gli investigatori chi ha sparato potrebbe aver scambiato i due poliziotti appostati all'esterno del negozio di giocattoli preso di mira dal racket per esponenti di un clan rivale e di aver forse aperto il fuoco per punire uno sconfinamento ritenuto indebito su quel territorio, ma non è l'unica ipotesi. Un video registrato da una telecamera di sorveglianza, ora al vaglio degli inquirenti, mostra l'azione di fuoco con barbato raggiunto da proiettili al collo e alla spalla con la gente terrorizzata e in fuga. Le indagini proseguono a ritmo serrato con le proteste annunciate oggi dalle associazioni anti-racket contro la criminalità e in sostegno alle forze dell'ordine, associazioni pronte a manifestare davanti alla questura. E' polemica fra il Movimento 5 Stelle e Libera di Don Ciotti per la gestione di uno stabilimento balneare assegnato proprio a Libera, a Roma, nei pressi di Roma, ad Ostia. Sembra finito malissimo il rapporto tra i 5 Stelle e l'Associazione Libera di Don Ciotti cementato a gennaio scorso dall'iniziativa condivisa per il reddito di cittadinanza. A provocare lo scontro, l'anticipazione del rapporto del Movimento di Ostia da presentare alla Commissione parlamentare antimafia sulla infiltrazione della criminalità nel litorale della capitale. Una bozza pubblicata tre giorni fa dal quotidiano Il Tempo di Roma che contiene pesantissime accuse anche nei confronti dell'Associazione di Don Ciotti. Secondo i 5 Stelle di Ostia, tra le altre cose, Libera avrebbe avuto in gestione uno stabilimento balneare al di fuori di ogni protocollo, stabilimento usato poi senza nessun fine anticriminalità. Libera avrebbe organizzato una unica fiaccolata nel lontano 2011. Accusa è rispedita al mittente da Don Ciotti che non ci sta in rilancia. I 5 Stelle di Ostia attaccano perché vorrebbero loro la gestione proprio di quello stabilimento, si legge in sintesi in una nota diffusa dall'Associazione che ha incaricato i suoi legali di verificare se ci sono le condizioni per un'azione di risarcimento. Con Don Ciotti si schiera l'assessore alla legalità del Comune di Roma, Alfonso Sabella. Secondo Sabella, uno dei rappresentanti del Movimento di Ostia, avrebbe un interesse personale proprio sullo stabilimento gestito da Libera. Prima era di un suo amico, poi però la licenza gli fu revocata perché aveva precedenti penali non dichiarati, dice Sabella. Ma quelle accuse sono contenute in una bozza che noi parlamentari del Movimento non abbiamo mai visto, né condiviso prova a recuperare la deputata romana Roberta Lombardi, che diffida il quotidiano e il tempo, a pubblicare altre parti del documento mai arrivato alla Commissione parlamentare antimafia. Spiegazione che Don Ciotti considera tardiva e non convincente. A cavallo fra sport e cronaca la vicenda che coinvolge Michel Platini. Platini doveva essere sostanzialmente il successore di Blatter alla guida della FIFA, l'organizzazione del calcio mondiale e probabilmente l'indagine che lo coinvolge lo escluderà da questa corsa. avrebbe ricevuto due milioni di franchi svizzeri in nero proprio da Blatter. Quattro mesi di indagini trascorsi tra arresti celebri, accuse circostanziate e difese imbarazzanti e che sembravano solo gettare schizzi di fango sul dominus assoluto del calcio mondiale. Ma ieri la storia di questo maxiscandalo è arrivata a toccare il vertice della piramide. Così anche Joseph Blatter, che subito dopo la sua quinta rielezione a presidente della FIFA aveva rassegnato le proprie dimissioni, è ora formalmente indagato dalla procura generale di Berna per gestione fraudolenta e appropriazione indebita. L'inchiesta riguarda due vicende distinte, una delle quali tira in ballo, ma solo come testimone, il presidente dell'UEFA Michel Platini, tra i maggiori candidati proprio alla successione di Blatter, al quale i magistrati elvetici contestano un versamento illegale di due milioni di franchi svizzeri, da lui effettuati nel 2011 nei confronti dello stesso Platini, per non meglio precisati, lavori non effettivamente svolti. I due, unitamente ad altri membri del board, nel blitz effettuato a margine della riunione del commentato FIFA tenuto a siglieri, sono stati interrogati. In contemporanea, altri uomini della procura elvetica effettuavano perquisizioni in varie stanze del quartier generale di Zurigo, su tutte quella di Joseph Blatter, il quale era poi costretto a disertare la prevista conferenza stampa, prendendo di sorpresa i giornalisti giunti a Zurigo. Questo non inatteso colpo di scena potrebbe accelerare il processo di detronizzazione dell'ex colonnello elvetico, preceduto dall'inevitabile sospensione che la commissione etica della FIFA gli infliggerà. E per un Blatter silente, un Michel Platini che in una nota diffusa ha dichiarato la sua piena collaborazione alle indagini, per poi precisare come il maxiversamento effettuato nei suoi confronti si riferisca esclusivamente al lavoro svolto sotto contratto per la FIFA. E siamo invece allo sport vero e proprio, al calcio giocato nel pomeriggio Roma-Carpi, in serata Napoli-Juventus. Le prime della classe degli ultimi anni sono in gravi difficoltà e negli anticipi di oggi dovranno dimostrare di non essere in crisi. Sabato di passione o di resurrezione. Il quesito è anomalo trattandosi di Roma-Juventus, ma questo dice la stretta attualità. Le regine sono uscite da un mercoledì maledetto con il fiato grosso e tanti cattivi pensieri, con i condottieri Garzia e Allegri inchiodati da una classifica impensabile dopo cinque giornate. Parlare di crisi di risultati è evidente, ma la radiografia del malessere racchiude ben altro. La Roma affronta il Carpi, che a dispetto dei gol subiti ha dimostrato una buona organizzazione difensiva. E allora la squadra di Garzia dovrà sistemare i conti del suo attacco che non convince, nonostante la grande novità del centramanti. Il problema sembra ruotare proprio intorno a Dzeko, che con una sola rete segnata è al di sotto delle aspettative. È il bosniaco che non sfrutta le occasioni, oppure è la Roma che ancora gioca secondo il vecchio Copione, che non prevedeva la punta centrale? È il dilemma nell'ambiente, sintomo di una situazione deficitaria, con il tecnico in discussione, ma che non si sente in bilico nonostante i sette punti di ritardo dall'Inter. Maicon è forse Totti tra i titolari. In caso della Juventus dobbiamo parlare di abisso, perché è straordinario vedere la miseria del raccolto bianconero dopo un frammento così breve del campionato. Una sconfitta a Napoli contro un avversario ugualmente assetato di certezze significerebbe un colpo da KO per i campioni d'Italia, anche se Allegri per forza cerca di guardare a lungo termine, cioè a Natale. Nell'immediato sta pensando di fronteggiare l'ennesima senza, quella di Licksteiner, con un cambio di modulo, passando la difesa a tre. In quel caso Quadrado farebbe parte del centrocampo più nutrito con l'innesto di Hernanes. Davanti è importante il ritorno di Morata, che dovrebbe essere affiancato da Di Bala. Allegri è sotto esame, lui però invita tutti ad un esame di coscienza. L'equilibrio deve essere la nostra forza, perché dopo alla fine si passa dalla squadra che è tornata dopo Manchester, dopo Genoa, a una squadra di coglioni dopo la partita col Frosinone, all'allenatore più scarso di tutti. Allora, dopo di noi ci sono le previsioni meteo con Paolo Sottocorona. A seguire c'è il dibattito di Omnibus. Gli ospiti di Frediano Finucci oggi parleranno di caso Volkswagen. Ne sono Crispian Balmer, Giovanni Lavia, Tobias Piller, Monica Frassoni, Gianluca Pellegrini e Luca Ciferri. Alle 13.30 la prossima edizione del Telegiornale. Grazie e arrivederci a domani.